io mi sono occupato di fare un confronto tra il piano del duemila undici e il piano del duemilaventuno dieci anni di politica climatica della giunta provinciale e è un confronto interessante eh sul piano del duemilaventuno si dice poco di questo confronto anzi si pubblica una tabella che è amputata e però io sono uno che cerca e quindi cerca cerca ho trovato la tabella completa nel piano che è stato presentato ci sono solo ci sono solo le colonne del duemilaventi e del duemilacinquanta cioè gli obiettivi teorici invece nella tabella completa che cerca cerca negli atti dell'amministrazione si trova c'è anche il bilancio su cosa è stato raggiunto tra il duemila undici e duemiladicianno e e duemiladiciannove e quindi il duemilaventi ebbene questa tabella in questa asse giallo dimostra che tutti gli obiettivi posti nel piano del duemila undici sono stati mancati dimostra che la quota delle energie rinnovabili che era del cinquanta sette per cento nel duemila otto e doveva diventare nel settantacinque per cento nel duemilaventi invece è al sessanta quattro per cento meno dieci per cento e le sono le rinnovabili la nostro cavallo di battaglia che le emissioni dice due annuali che erano del quattro e cinque dovevano diventare del quattro sono invece del quattro virgola quattro cioè lo zero uno in meno abbiamo e bisogna vedere come si conta perché l'eurec conta sette virgola cinque e che sentite bene la potenza il consumo di energia elettrica per anno per persona che nel duemila otto era di duemila ottocento watt e doveva diventare di duemila cinquecento nel duemila venti invece è nel duemila diciannove tremila tremila zero diciannove cioè più di tremila quindi è aumentato il consumo dell'energia elettrica non è stata ridotta per nulla in dieci anni l'impronta di co2 e le energie rinnovabili sono cresciute molto meno di quanto si pensi questo è una dichiarazione di bancarotta abbiamo avete cara giunta provinciale perso dieci anni per la lotta per il clima e il piano che cosa fa prende questi obiettivi che erano per il duemila venti e li sposta al duemila trenta questo fa questo fa il piano sperando poi nel duemila cinquanta di arrivare a cosa non alla neutralità climatica come dice l'unione europea e come dice l'accordo di parigi ma all'uno virgola cinque cioè a una emissione di co2 di uno virgola cinque tonnellate nel duemila cinquanta l'unione europea e l'accordo di parigi dicono la neutralità climatica che poi se ci aggiungiamo se prendiamo per buono il duemila cinquanta si va all'uno virgola cinque dell'impronta che avete calcolato se io ci aggiungo il calcolo dell'euroac che aggiunge una tonnellata in agricoltura che non avete contato due virgola due tonnellate di energia grigia secondo il piano che oggi avete presentato si arriva nel duemila cinquanta a quattro virgola sette tonnellate reali di co2 emesse nell'atmosfera e nel confronto tra duemila undici e duemila ventuno si vede anche perché non è stato fatto nulla perché quanti quanti progetti sono stati falliti miseramente falliti ne faccio qualche esempio non è una sfizza trasporto pubblico locale sentite cos'era scritto nel piano duemila undici entro il duemila venticinque nelle zone urbane saranno utilizzati unicamente veicoli di trasporto pubblico locale a zero emissioni unicamente nel piano duemila ventuno cosa ha scritto vettorato entro il duemila trenta il tpl il trasporto pubblico locale nei centri Bolzano Merano Bressanone Brunico e l'Aives sarà convertito per almeno il quaranta per cento a meno emissione c'era scritto del tutto nel duemila undici a zero emissione oppure risanamento degli edifici che sembra una roba però c'era scritto nel piano duemila di un undici che l'obiettivo era un tasso di risanamento energetico del due virgola cinque per cento all'anno due virgola cinque per cento all'anno ebbene nel duemila undici gli edifici risanati furono novecentotrenta sapete quanti sono gli edifici risanati nel duemila venti cinquecentotrentasei cioè e nella media degli ultimi otto anni sono cinquecentocinquanta quindi siamo passati da oltre novecento a cinquecentocinquanta che è il meno quarantun per cento sul duemila undici dovevate fare uno studio per l'energia grigia entro il duemila quattordici niente adesso è spostato entro il duemila venticinque la presa in giro scusate che quando nel turismo scrivete piano duemila sul piano duemila ventuno sarà condotto uno studio sull'opportunità di un tetto ai pernottamenti turistici ma se l'avete cancellato appena nel duemila diciotto ecco tante cose si sarebbero a dire l'Eurac faceva delle proposte sulla legge urbanistica consumo di suolo niente sulla verifica del piano gestione acqua e piano del rischio idrogeologico e non tengono conto del cambio climatico niente sul piano forestale che l'Eurac dice sostituire l'agrifoglie che reggono meglio alla siccità invece degli agrifogli beh avevate l'occasione di vaia che ha buttato giù migliaia di abeti rossi perché non solo reggono meno alla siccità ma hanno anche le radici orizzontali e che cosa avete ripiantato al posto delle abeti rossi una massa di abeti rossi mentre l'Eurac diceva usato le l'agrifoglie allora cari colleghi e cari colleghi ho concluso mi scusi presidente il collega staffer spiegherà perché tra l'altro questo piano è un piano impossibile da verificare perché non usa standard europei io credo che a questo piano non si può credere ma io sono disposto a credere a due condizioni primo che a questo piano venga aggiunto e implementato un sistema di monitoraggio annuale sui risultati che quantifichi i risultati delle delle misure prese secondo che questo monitoraggio sia organizzato e valutato da una commissione indipendente di esperti non mi basta la l'agenzia per l'ambiente mi dispiace perché l'agenzia dell'ambiente è sottoposta alla giunta provinciale e se leggiamo come i numeri in questo piano come si giocano i numeri io non mi fido non mi fido di chi se la canta e se la e se la suona ci vuole un ente una istituzione autonoma appunto una commissione indipendente che e c'è in Germania per esempio c'è l'esperte sul clima fra in Gran Bretagna c'è il comitì climate change quindi sono istituzioni indipendenti che valutano l'efficacia delle politiche climatiche senza queste due cose monitoraggio e un gruppo di lavoro indipendente di esperti che valuta questo piano a questo piano noi non possiamo credere grazie mille grazie mille grazie mille grazie a grazie mille grazie mille grazie mille grazie a